buongiorno buongiorno a tutti in movimento sempre movimento che si ferma ormai fino a quando oggi hanno messo pioggia e freddo e freddo forte viene in fredda e la neve e vai avanti avanti e riesca tutta a pistoia non capito perché come mai uscita sempre la stessa delle macchine riesca tutto buongiorno buongiorno ma già fatto lo scontrino prima lo scontrino buongiorno ora l'ho fuori una sfoglia alla mela come tu l'hai finita? eh sì mi è rimasta crema di riso e crema normale l'hai finita le sfoglie alla mela? va dove venire un'ora prima dammela non c'è la sfoglia alla mela dammela il riso ma è che tu c'è la sfoglia con l'abrioche non c'è la sfoglia alla mela dammela il riso dai crema di riso vai avanti 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 ragazzi avanti 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 sempre avanti meru vai ciao rino tammi bene ciao ciao ragazzi in bocca al lupo in bocca al lupo in bocca al lupo volevamo vedere il video eh eh tu lo vedi ci sei come tu ti chiami? Davide che Davide ragazzi dammi bene ciao 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 vai ragazzi ci siamo si parte guardate qua mi guardate l'ultima volta si era aperto qualche giorno fa non è cresciuto molto però gente non c'è passata davanti avanti avanti inizia la ricerca vedete sono piccolini questo si può lasciare davanti avanti 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 completamente andato qui ce n'era un altro e quindi zona diciamo dove i funghi ci sono nati ma guardate che cartolina opp mi hanno fatto prigioniero allora madonna sono prigioniero di un prigioniero di un faggio prigioniero di un faggio guardate qua ma guardate qua il faggio dice no non andare a cogliere quei funghi mamma mia mamma mia ragazzi mamma mia no no o come si fa o come si fa due funghi così matto matto avanti 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 sempre della stessa sacca guardate guardate il gambo guardate qua mamma mia mamma mia che funghi un po' mangiato da lui ma è tanta roba avanti avanti sentite come fiove matto uno discreto finalmente sotto questo guardate qua guardate il fungo mamma mia mamma mia e sta piovendo avanti 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 ragazzi non si sta ritti non si sta ritti non si sta ritti vi credete che non si sta ritti tanto al avanti 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 omogeneo che lumai ragazzi oggi è dura 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 pioggia non si sta in piedi e vabbè pazienza dunque la natura lascia sempre il suo fascio avanti 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 qualche funghi c'è ancora avanti avanti io io avanti avanti peccato avanti avanti e tu l'ha visto anche il ziggio Daniele Raspini avanti avanti ciao ragazzi si vede l'acqua oggi come tu ti chiami? Fabrizio ciao Fabrizio tu sei nel prossimo video e tu sei a chiudarlo che culo e vanno guarda e c'erano quattro vischeri ciao ragazzi in bocca al lupo e vai avanti 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 e ragazzi la visibilità è veramente scarsa e non è facile con questa pioggia e adesso sta arrivando anche il freddo in questo in questo punto se vi ricordate se vedete sentite qua sentite qua è una cosa fassesca arriva il freddo e il vento e ci sono persone guardate che si sta scendendo la lampadina sono tanta 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 gente però non è il caso di restare con questo clima anche perché non ne vale la pena guardate quanto funghi ci sarebbe ancora delle freddo piccolino in nascita però come si dice questa volta a malincuore bisogna un po' arrenderci perché veramente la salute prima di tutto avanti 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 ragazzi alla prossima eh l'aspetto l'aspetto sul canale ragazzi è dura guardate c'è un sacco di gente sta rientrando per la fioggia e oggi è andata così avanti avanti avanti